Sono qua per esporvi dei dubbi esistenziali, il fatto che abbia tagliato i capelli non ha cazzo, no non c'entro un cazzo, su questo no scherzavo Però stavo pensando, me ne stavo qui assorto a guardare sto mondo un po' malinconico così e tutto il resto E stavo pensando che ormai c'è poco da costruire qua, tutto quello che devo fare soltanto è andarmi a reperire i materiali nelle millemila farm Che attualmente ho a disposizione, andare a costruire e via Che vi devo dire, forse ho perso un po' quel gusto di giocare a sto mondo perché quando mi metto qui a registrare Devo passare necessariamente 20 minuti, 30 minuti prima che io trovi l'idea Che cosa facciamo quest'episodio perché non è che posso cazzeggiare sempre nel senso che lo scorso episodio abbiamo finito Ah guarda ho finito la casa, cioè è bellissima, è meraviglioso, tocco, c'era un ape Cioè è qualcosa di meraviglioso e quindi stavo pensando di mandare in pensione anche sto mondo Ovviamente faremo il world tour, arriveremo a fare il 550esimo episodio, tanto famigerato 50esimo episodio che moltissimi di voi aspettano E dopodiché forse sarà arrivato il momento di creare un nuovo mondo Chiamare in causa la sesta stagione di Minecraftita Sono scelte difficilissime Probabilmente prenderemo un periodino di stop Che significa tre giorni per importare tutte le strutture nel mondo della prima stagione Fare tutti i vari accortezze del caso Dire beh, alla fine sto mondo ci ha accompagnato un sacco Ci ha accompagnato davvero tanto È stato un mondo che abbiamo tirato su in tanto tempo È stato faticoso, duro Ci ha regalato grandissime soddisfazioni perché abbiamo fatto tantissima roba Però è arrivato il momento forse Di cambiare Perché molti di voi mi hanno detto che sto ferro gli ha rotto il cazzo Ma io posso capire Questo è un mondo stra particolare Forse una delle migliori stagioni che ho abbia mai fatto La prima, vabbè, escludendo la prima Questa se la batte con la seconda, vi giuro Perché la seconda è stata tanta roba La seconda stagione mi è piaciuta tantissimo E le altre due un po' meno Questa se la batte con loro Perché con questa stagione abbiamo fatto davvero tantissimo E poi quando ci penso a queste cose Dico ma perché devo cambiare mondo? Perché? 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 Per quale motivo? C'è tanto ancora da fare Tanto da costruire Ho un progettone in mente che voglio fare Però poi ci ripensi Ma boia vacca Dove lo faccio? Cioè poi il progetto Sì, ma io ho finito anche lo spazio per costruire Perché c'è una cozzaglia di roba che mette paura E quindi dovremmo espanderci Ma espanderci è sempre un po' un casino Come ultima chicca Da lasciare O almeno era il progetto per il prossimo mondo Già lo programmavo Voglio creare un palazzo Già c'ho l'idea in mente Già c'ho tutto in mente Su come farlo Deve essere enorme Deve essere una costruzione davvero fantastica Fighissima Perché ho visto Cioè mi è venuta in mente st'idea Allora ho detto Ok vabbè la realizzo Certo perché se passi così Si vede è tutto disordinato Poi se passi così Io ho ordinatissime le torce Vabbè ok Non senza Non sorvoliamo Cioè stralasciamo le cazzate Questo è quanto Ok Ultimamente state lasciando una quantità di mi piace In minecraftita Che fa paura Vi giuro È pauroso Quanto roba ci sia Quanti mi piace lasciate Io non sono abituato A vedere tutti questi mi piace Vi giuro È incredibile Cazzo Porca miseria E Oddio Sì veramente È incredibile Comunque Detto questo anche oggi Passiamo a un progetto E tentiamo di portarla avanti Voglio soltanto Sapere la vostra idea Quello che pensate Se Alla maggior parte di voi Fatemelo sapere Cioè Se volete che io continui Sta serie La continuiamo insieme Perché le idee me le avete date Io so che cosa fare Iliai Massiva Il problema È che Perde un po' di serie Perché c'ha tutto È Il solito problema Ho cambiato all'inizio La prima stagione Perché c'avevo tutto E di nuovo qua posso farlo Però Se voi Cioè Se voi davvero siete affezionati A questo mondo Se vi piace davvero così tanto Beh Continuiamo con sto mondo Cazzo Detto questo Penso che Premessa doverosa Perché ovviamente Il mondo lo Si costruisce insieme Non lo costruisco da solo Sono di nuovo nel magazzino E possiamo iniziare Finalmente Questo episodio Ciao a tutti ragazzi E benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo di nuovo su Minecraft E da Quinta stagione Dopo le premesse iniziali Doverose Perché dovevo Raccontarvi un po' Sta roba Oggi Siamo qua pronti E carichi Per andare a fare un po' Un bel progettino Un progetto che è abbastanza Easy Tu Cioè Il dissecuzione è veramente molto easy Però Però C'è C'ha il suo però E c'ha il suo però Fidatevi Fidatevi c'ha il suo però Ah dato che io non trovo più la mia pala Ma ho Possibilità di farmene Quante mi pare Perché ho tipo 30 diamanti Quindi sono 30 pale Io direi Ovviamente non farò mai 30 pale Sbatti C'è chi cazzo è che si metta a fare 30 pale Però Tipo una paletta Io me la rifaccio Peccato che quell'altra C'era efficienza Era figa un sacco Però non ricordo In mia mente dove cazzo sia Vi giuro Mi sembra strano Averla persa Ma Vabbè Sava 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 Ah due di questi Così flambè Poi voglio Il cactus E lo vado a prenderli Che altro mi serve Che altro mi serve Mi servirà Ok la pala Sì Un paio di secchi d'acqua Uno ce l'ho Ne prendiamo un altro Di secchiellino Lo mettiamo qua Tac Poi 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 Un po' di redstone Ci prendiamo Redstone Dropper No Dropper 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 No Dispenser Dispenser Dropper Da merda i dropper Va bene Redstone Comparator And repeater Questa roba qui Una levetta We are ready to go Ok andiamo Ok eccoci qua Per il progetto di oggi Che cosa andiamo a fare Parecchi avranno ormai inteso Quello che io dovevo andare a costruire Mi si è baggata sta cazzo di porta Io la devo sistemare assolutamente Prima di darvi la mappa Comunque Quello che volevo dirvi è che Che cosa andiamo a fare Beh Qui c'è sta porta Va a difesa la porta ovviamente Quindi Dobbiamo andare a creare Sistemi di difesa In merito a sta porta Perché se no Ecco scusa Lasci la porta all'ingresso libero Se no tutti possono entrare E non va affatto bene Iniziamo a fare una roba del genere Tipo un semicerchio Ci buttiamo là E ci mettiamo tipo La terra del nether La roccia del nether In modo tale La netherrack Cazzo per capirci Perché devo italianizzare Un cazzo di nome Va bene E quindi qui tutta intorno In modo tale Da star tranquilli E avere sistemi di difesa Adesso ci andiamo a implementare I sistemi di difesa Là già ci sono Sulla destra E quindi andiamo a fare D'altra parte E questa sarà la prima linea Di difesa Ovviamente non l'ultima Prima linea Perché adesso andiamo A giocare con i cactus I cactus giocheranno Un ruolo fondamentale Nella nostra Allora qua non possiamo Far nulla Perché non posso Metterlo qui Non posso metterlo qua Però posso iniziare A metterlo qui Tipo E poi andare In diagonale E fare una roba del genere E mettere tutti i vari cactus Creando poi Una barriera impenetrabile Dai vari bomb Perché possono provarci Quanto gli pare E non c'è verso Però così poi Mi diventa No non mi piace Così però In effetti È troppo mainstream Direi che possiamo Metterli Perché devono morire male Allora distanziali di uno Tipo Una roba del genere Qua possiamo mettercelo Alla fine Possiamo metterlo anche di qua Lo possiamo mettere qui Lo possiamo mettere qui Ecco Finché si possono Mettere cactus Noi ce li mettiamo Almeno questi si prendono Andando nella madonna E poi li mettiamo staccati Vi faccio vedere come Altra schiera di difesa fatta Easy Abbastanza Ora Voglio Implementare qualche altra cosa Del tipo Magari mettere Un bel pezzo Qua così A schiera In modo Al contrario Qua tac Facendoci passare Un pezzo Qua in mezzo Perché ho una vaga idea Su come utilizzare Questa roba qua E adesso continuo a mettere Sti robbi Tipo Staccati di uno Staccati di uno Dal punto Ecco qui Qui staccato di uno Però mi rimane scomodo Vabbè Mettiamo qua Via Basta che sia staccato di uno Ci si possa passare in mezzo In linee massima Una roba del genere Ok passiamo all'accensione Almeno fa anche un po' di luce Perché ho paura Mi spawnino mob Quindi Aia Mi sono dato tipo fuoco da solo Questo non va acceso Questo si Questo si Abbiamo quasi finito L'accendino Però ci sta In linee massima No Tanto per due o tre Ok perfetto Adesso voglio vedere Se i mob riescono a passare Perché già così Miei cari mob Non passate Perché prendete danno dal cactus Prendete danno dal fuoco Arrivate qua Che siete incendiati E Purtroppo con Pochissima vita Quindi mi posso mettere qua Tranquillamente a shottarvi Altra cosa fondamentale Però che voglio creare È un sistema Dice Ok cazzo Sono l'ultima spiaggia Devo sparare In qualche modo Perché questo è anche protetto Abbastanza Dai Ah guardate Guardate i primi mob Si stanno muovendo Cioè Ecco qua uno zombie Vediamo eh Se riesce a passare Si prende danno Sta prendendo danno Oggettivamente Ok qua lui riesce Arriva però non muore Cioè riesce a passare E quindi dobbiamo intensificare I nostri controlli Guardate l'unica cosa Che mi è venuta in mente Per ora Da poter mettere Dato queste non prendono fuoco Sono le cobweb O perché le cobweb E adesso vi faccio vedere Perché ovviamente I mob Che cosa succede Quando incontrano le cobweb Si fermano E tipo resteranno Ancora un po' di tempo A bruciare Quindi si indeboliranno Parecchio Resteranno sul fuoco A indebolirsi E noi avremo possibilità Notevoli Di avere un vantaggio Tecnico Non indifferente Vedete Adesso Per noi è praticamente Impossibile uscire Infatti dovrei chiarare Un cazzo di varco Tipo Oh questa non è una cazzata Noi come usciamo Beh ovviamente Potremmo uscire da sopra Da sopra le mura Nel senso È possibile per me salire Sopra le mura No Attualmente per me Non è possibile Sali Cazzo Non è possibile Non posso salire Sopra le mie mura Dai È ridicola Sta cosa però È tipo da là Proviamo da lì Probabilmente da lì Si riesce Dovrei fare un passaggio Beh per salire sulle mura Per forza Mi ero preso Uno stack di ferro Perché volevo fare Una costruzione Anche se Poi non c'è stato bisogno Perché quello È pressoché fantastico Quel modo Comunque abbiamo creato Una bella safe zone Sono soddisfatto Di quello che è venuto fuori Guardate Vediamo un attimo questo Questo lo mettiamo così E perfetto C'è l'accesso L'accesso Uno due Mettiamo la torcia qua Ok saliamo Io attualmente sono sulle mura Posso tranquillamente Uscirmene Vedete Oh vediamo Ecco è fantastico così Cioè non è malissimo Guardate che carino che è C'è un bel screenshot Pim Ok vediamo che cosa Si inventa sto zombie Allora Mi hai tankato zombie Tankami Perfetto Sta entrando E lui adesso morirà Ma lì Vediamo se riesce a passare È riuscito a passare Clamoroso Sta ancora bruciando E questo da dove cazzo è entrato Questo è passato tranquillamente Così Così easy Ok dobbiamo intensificare Ancora un po' Ha steccato il primo E stecchiamo anche il secondo No sarà difficile Steccare il secondo Sì grande Sulle mani Hand Hand Shot Bitch E poi come si dice Ma gli estremi estremi rimedi Questi non muoiono Ragazzi non c'è verso di ucciderli Cioè arrivano qua E con l'armatura Riescono a passare tranquillamente Poi spawnano lì in mezzo Quindi Uno attiva questo L'ultima chance L'ultima possibilità E poi con questa roba Loro moriranno sicuramente male Perché È un po' di lava Che li massacra malissimo Ok Quindi questo è un sistema di difesa Decisamente interessante È un po' lento ad utilizzarsi Perché Per scendere ci mette una vita Però una volta che L'hai attivato È ciaone per tutti Non ce n'è più niente Per nessuno Poi basta riattivare il bottone Questo si leva E io me ne vado su Hop Non fa danni a nessuno Ah cazzo È la Pressure plate Forse sarà il caso di levarla Bene E vai tranquillo Quindi In linea di massima L'ultimo L'ultimo caso estremo È questo Magari Possiamo aggiungere In seguito Un paio di Dispenser Che sparano uno da sta parte Che ne so Nelle entrate Nei punti sensibili Tipo questo E ci mettiamo Una pressure plate qua Guardate eh Appena lui arriva Tac Parte il meccanismo Ti massacra di botte È perfetto direi È veramente perfetto Sì mi piace Mi piace l'idea E poi penso basta Che altro dobbiamo fare ragazzi Cioè li massacriamo male così Qui Eh esatto Ne mettiamo Uno qua Uno qua Uno qua Pressure plate collegate Al qui Qui Insomma tutti i punti Dove possono passare Ci mettiamo dietro La pressure plate E appena è Loro Vengono massacrati Stramale Da sta roba Tanta roba Bene Abbiamo pressoché Finito Ho messo Questi dispenser Il meccanismo è easy Molto molto easy Cioè tu arrivi qua E ti prendi la frecciata E ti ritorna in di Ributta indietro Quindi tu riscendi E ti ributta la frecciata E così via Il linea di massimo È un sistema Pressoché perfetto Non credete Sì non c'è modo Di scappare Cioè per forza Tu arrivi Ti ributta indietro E va bene Eh Pensavo a fare una roba Con ripetitori E tutto il resto Però il problema È che poi sprechiamo frecce Questo è economico Non che abbiamo bisogno Di roba economica Però alla fine Va bene lo stesso Perché Fotte sega È fottutamente economico È figo Un sacco Perché ti fa stramale Cioè ti massacra Malissimo Beh Non c'è nient'altro da dire È oggettivamente tanta roba Sono raffreddato Mi sono preso Penso la febbre Porca traia Non so come esserci riuscito Però vi giuro è così Ora Vorrei evitare Cioè questo pure è perfetto È perfetto Sistemi di difesa Però so che perfetti Perché noi attiviamo la lava da sopra Poi muoiono tutti Ciaone Cioè A mali estremi Se attiva la lava Tu vai qua sopra Breccia 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 Sali di corsa Ti attivi la lava E ciaone Cioè poi con la lava Non può passare nessuno Comunque è carino Cioè è simpatica come Struttura difensiva Non credete? Cioè è un cerchio così Tanta roba Ma discredito Discredito Ragazzi penso che per questo video Possa essere tutto Spero vi siano piaciuti Sti sistemi di difesa E più che altro Ci stiamo avvicinando Al download della mappa Nel prossimo episodio Nel 459 Nel 4 Si nel 549 Madonna Mi è stato un casino a dirlo Episodio Vi darò Vi dicevo di sta roba Di sto coso Famoso Password Che vi devo dare Lasciato scritto in un cartello Da nascondere Non so dove E poi Vi dirò anche Che cazzo farci con sta password Però Beh L'idea di massimo è tanta roba Non lo so Non so ancora dove metterla Un post Un paio di posti L'ho individuati Saranno nell'overworld Già vi dico All'interno della savezone Niente nether Niente roba varia Strana e particolare In tutti i casi ragazzi Penso che per questo Video possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Che vi è già fatto Di condividere il video Su facebook E fammi fare una persona Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram Telegram E noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi